Controordine in Pakistan, almeno per ora, l'Alta Corte di Giustizia di Islamabad ha ordinato la scarcerazione dell'ex premier Nawaz Sharif, di sua figlia Mariam e di suo genero Mohammed Safdar, sospendendo le pene inflitte loro per presunti casi di corruzione emersi dai cosiddetti Panama Papers. I suoi ex sodali, come l'ex ministro dell'interno, si rallegrano di questa decisione della magistratura. E una grande vittoria a questo caso ha dimostrato, durante il processo, che le accuse raccolte contro il signor Sharif, sua figlia e suo genero, non avevano fondamenti legali. Erano solo un caso politico, montato ad arte. Sharif, che ha ricoperto per tre volte la carica di primo ministro del suo paese, lo scorso luglio è stato condannato a dieci anni di carcere per corruzione al termine di un processo incentrato sull'acquisto di alcuni appartamenti di lusso da parte della sua famiglia.